allora la Sampdoria che comunque è una squadra che storicamente ama anche i cavalli di ritorno sta per piazzare il colpo Gabbiadini ora Gabbiadini non è più quel calciatore che conoscevamo 3-4 anni fa quest'anno non sta facendo bene evidentemente mi sembra che in campo è stato per 9 volte o 10 volte di cui soltanto 4 è partito da titolare e ha realizzato un gol quindi un bottino molto macro però io credo che è un calciatore che poi riportato nel suo habitat naturale in una città dove ha fatto bene forse la città in cui ha fatto meglio di tutti con giocatori di qualità in attacco come Quagliarella sai che duetti che ti possono fare poi non so se eventualmente la Samp sta anche pensando di cedere De Frel ma comunque credo che un attacco di qualità con Quagliarella con Gabbiadini, con Caprari, con De Frel se rimane comunque credo che la Samp abbia di che gioire nel girone di ritorno quindi volevo sentire un attimino voi si parla di un prezzito con diritto di riscatto a 12 milioni volevo un attimo sentire il vostro commento su questo tipo di operazione a me sembra un'operazione tutto sommato intelligente insomma riportare un calciatore che ha fatto benissimo lì sul luogo del delitto potrebbe far riuscire fuori a Genova si lavora bene secondo me si sta bene pensate che anche Cassano la sua migliore stagione l'ha fatta a Genova con la Sampdoria per cui la ritengo un'operazione intelligente volevo sentire un attimino sotto voi nei commenti che cosa ne pensate un saluto è sempre Calciopaccio 2